a carne 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 e io non ho più vita arriva l'altro no è già morto che l'olive la scudotoro no se voglite venirmi ad aiutare grazie l'ho proprio bullizzata c'è altra gente? arrivo dov'è dov'è? fuori altra squadra no aspetta sto sotto ti sto curando vieni qua vieni qua market market anche loro market anche loro aspetta ho un'idea qua 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 da me rotto ah arrivo bello arriva ancora? arriva ah ah un'altra ancora ancora arriva di qua arriva eh esiste? ah ah perché è arrivato in giro? madonna santa ma quanti arrivano? hai un altro? another one? cazzo se non vieni qua in modetta zombie ne? non so altri? altri zombie in arrivo? ehm si eh certo fai chiamati ah 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 arrivo ah 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 ok ancora un'altra cazzo sopra 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 destra sinistra ah ah arriva 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 e qui da più bravo 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 ti stradi bravo arrivo subito ahahahah bravo curati e lo so curati aspetta oh le ho preso anche il devotion cazzo cazzo qua c'è tutta la lobby seriamente non so che l'ho quante kill hai? 9 ecco il 9 kg puttanei ahahahah ahahahah 1200 danni aspetta il coso di il creatore non ha non crea quello proprio per il devotion oh mio teo arriva dove dove? qua venire bravo vedi vedi non sapevo vedi vedi aspetta vede vadovadovadovvvvvxvvvvv chvvvvvv iV se sentava è saltato, pusciamo, pusciamo e pusciamo aspetta la tv che lo ancora ok una terra e aspetta è qua, fammi prendere un po' di munizioni e arriva, arriva, arriva arriva, 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 arriva vai andiamo è venito da sola no, non prendiamo arrivo ok vai, tutto tuo sei rotto mi sto curando faccio un altro per lo switch portale è laggiù, non torniamoci, non torniamoci portale, occhio, non ci conviene prenderlo no no, aspettiamo un attimo stanno c'è con gli squiditi lo fili rossi, fra qua c'è l'altro team vieni qua, vieni qua, vieni qua dietro curati, vieni qua dietro portali amo aspetta pass ok è qui sì sì poi siamo a fare i safe, è ovvio siamo qua sì ma siamo chiusi dopo lì aspetta, vediamo se posso raggiungere qua sotto qua 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 cazzo mi sparano mi cecchino dietro, vai indietro hai un per tre c'è un per tre no te lo do io se li pushano andiamo noi anche vieni qua vieni qua sono tutte due squadre o solo una appena iniziano a spararsi prendiamo la zipline lì stanno sparando stanno sparando fuori è là dietro chiudiamo lì fuori chiudiamo lì fuori guarda là ok guarda se quell'altro non aveva scudo d'oro quello che stava in esecuzione no 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 non aveva scudo d'oro quello là witch pee se trovi l'ultima nemica non ucciderla voglio ucciderla io quello aveva quante kill quante kill la partita migliore che ho fatto questa me la salvo questa è stata la partita migliore che ho fatto in tutta la mia vita di Apex quante kill vi ho fatto la partita migliore di Apex quattordici kill salvatelo fai lo screen ti giuro abbiamo fatto quante kill abbiamo fatto 22 fra guardimi dammi 3000 246 abbiamo fatto 10 squadre 11 squadre fra l'ho fatto fuori 11 squadre questa è la partita migliore che abbia mai fatto ti giuro la partita migliore che abbia mai fatto in tutta la mia vita di Apex no questa è la carica su youtube è la partita migliore